una palla ti piace essere una palla allora? no smetto subito ben ritornati ragazzi miei in una nuova modalità di roblox perchè era una palla eh? no non mi piacciono le palle ma è perchè oggi giochiamo alla modalità dove siamo una palla qui su roblox e dobbiamo completare tutti e cento i livelli di questa hobby ma cosa stiamo aspettando? noi siamo esperti nelle hobby andiamo allora siete pronti? possiamo rotolare finalmente siamo una cosa sferica con le mie chiappe luride tu sei una chiappa e io la tua chiappa è schifo stammi lontano da adesso in poi stammi lontano andiamo ragazzi comunque apprezzo la sincerità nel descrivere le tue chiappe luride però anche meno eh ragazzo anche meno eh ricordatevi ragazzi miei che chi farà schifo dovrà scioppare oh no e ti dico la verità che stregatto si sta già qualificando per dover scioppare ma cosa stai dicendo? io sono la più tonda che ci sei scioppa eh ha fatto schifo ha fatto schifo ha fatto schifo comprati questo guarda vedo in basso a destra un meraviglioso tappeto magico perché non lo compri? costa 500 robux e ha detto a te no ti posso ho solo 900 robux dai andiamo avanti ragazzi così deve scioppare anche lo schifo è il mio tappeto ehi 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 ma già stiamo scammando qua? ehi 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 oh e qui com'è? bisogna fare forse un doppio salto un palleggio di palle? no bisogna passare di lato oh hoppala Leo però non c'è il mio tappeto è sparito e allora non l'hai comprato rieee compra un'altra cosa no dai compra il per tre salto così sarai più potente di noi e tu vuoi no? eh certo va bene l'ho preso guarda faccio uno due no oh uno due non fa il terzo ma lo stanno scammando brutalmente dai ho finito i robux li ho finiti io non ti credo che hai scioppato ehi e mo come facciamo? magari mi devo resettare tonno subito ehi proviamo ragazzi si ci starà prendendo in giro non starà comprando le cose a me farebbe arrabbiare questo ma guardacelo vieni guardami dove sei? uno due tre bello ehi e il tappeto e adesso voglio capire come come truffarlo secondo me non ce l'hai ti hanno truffato miserabile non è possibile oh venite palloni eh mi raccomando ma guarda quanto siamo bravi ma ne vogliamo parlare un attimo eh parliamone Anna lisciami le palle guarda quanto siamo bravi voglio la cosa eh nel senso che siamo delle palle e tu e magari tu giusto giusto lisci e rotolano meglio no? è importante rotolare bene andiamo Anna non ti preoccupare forza un salto dietro l'altro e arriveremo alla fine siamo già allo stage 8 ragazzi ma siamo troppo bravi ma che potenza? sì ci sono 143 stage ehi ma tu ma non mi ferma più nessuno oh ma che è il mercato del pesce stregatto scusa? no oddio ti stavo dando la parola sì sì puoi fare gol nella mia porta oh mio dio oh mio dio no 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 davvero? gioco in un altro ruolo sono difensore mi assicuro che nessuno faccia gol in quella porta sporca lurida che sposta? è deviata oh 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 Anna sì chi è il king delle palle qui? a quanto pare non stava male besta io sono proprio io ragazzi il king delle palle ma gli lion tu da piccolo quanto palleggiavi le palle ma che offesa? adesso scioppi no perché? ma gli presenta aspetta fai io prendere stai zitto stregatto Alex come ti permetti? non volevo permettere ma volevo sapere stai zitto stai zitto allora Alex adesso mi stai facendo arrabbiare ok? no lion non fai mi sciopparli prego 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 adesso vediamo cosa ti facciamo comprare perché vedo che ci sono un sacco di cose tra cui anche che puoi fare esplodere tu oh no questo lo potrei comprare io perché no? del resto io mi piace ah 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 ma se cosa ti dico non me ne frega niente perché ho fatto piangere stregatto piangi sei un infame schifoso che è stato? a fare che? ho esploso di nuovo io io non so stato eh no Alex io sentivo la sua tastiera Alex hai scioppato per farci esplodere che l'ha esplosato e vendetta ti è vendetta vera non finirà in galera si si esplori boom 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 lo fai scioppare per cortesia ma tanto però Alex vedi qua nella tua destra c'è tp gun 250 robots no non serve a niente non serve a niente comprala no vogliamo gratificare il creatore della modalità con delle donazioni regala regala i tuoi robux regalali le donazioni perché non me le ha data Alex però sei rimasto indietro compra immediatamente lo skip no 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 ehi 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 compra lo skip un'altra volta no scusa sei indietro ne vale la pena Alex dovresti essere non vuoi stare sempre vicino al lion? eh sì non vuoi ma assolutamente vorrei stare attaccato a te come una polla e perché sentivo che piangevi? perché sto triste quando spendo i miei robux quanti ne hai ancora? ancora ne ho 4000 ma c'è Alex ma Alex dovresti stare attento a flexare questi soldi perché poi qualcuno ha prende ho detto 4000 intendevo 400 no no intendevi 4000 no 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 eh ma io adesso te li devo fare io me lo ricordo l'ha detto però ragazzi dai dobbiamo anche sbrigarci perché sennò 140 stage non li facciamo dai siamo solo al 19 come facciamo a finire qua? dai facciamo una sprintata per vedere se riusciamo ad andare avanti belli spediti eh ci fermiamo quando buona qualcosa stregatto ha parlato ne so ha dato partito stregatto mi dispiace tanto amico mio ma penso che sono una palla carina amico mio adesso non siamo più amici vedi oggi mi sono svegliato che sono amico di Alex oh oh mio dio che giorno è oggi? sei l'amico di Alex l'amico di Alex grande amico mio sopra amico e quindi non posso essere amico di Stregatto eh no beh allora Stregatto siccome mi fai schifo segnati che cosa? quanti no bus hai? andate sono rimasti 120 eh prendiamo anche qui guarda ho una scia rosa ma è vero perché abbiamo sbloccato delle scie eh andando avanti vediamole subito dunque su skin su skin ci sono i colori e le facce allora questo qua non ci interessa su shop ci sono le scie anche io ne posso avere una perché siamo allo stage 28 posso avere la scia rosa io prendo quella viola io prendo quella blu no Stregatto non puoi avere nessuna scia ma vabbè la tolgo eh perché non sei mio amico ma stavolta ma anche se l'ho comprata sai cosa dovresti fare per essere mio amico? che cosa? dovresti farmi ridere più di Alex non ce la farà mai ma lo sai che io prima sono caduto e la mia palla è diventata un van ma che schifo non mi interessano queste cose qua non mi fai ridere sei solo triste ma cos'è che fa ridere questa cosa qua? sei squallido smettila ma c'è schifo così d'alto? sì no non dirlo se no dopo io piango e tu non mi vuoi piangere ma che disagio stai attraversando dimmi mamma mia eh qual è il disagio che stai vivendo in questo momento della tua vita? sento che la mia palla è più piccola della vostra ah ma beh quella è una condizione eterna però anche Diana sì non è più piccola eh mio zio hai le palle sotto zero ma io non ce l'ho ah è incredibile le palle di stregatto ragazzi sono costituite di antimateria le palle da calcio così quindi praticamente egli ha eh le palle sue sono in negativo capito? sono sotto zero sono meno di zero praticamente ha un micro buco nero Al posto delle palle Si parla di palle da calcio naturalmente Palle da calcio Palle sportive Palle da bowling Da golf Palle di questo tipo Da tennis Ma quindi se è un buco nero ci sta dentro Stai zitto Tu non devi partecipare ai discorsi sulle tue palle Guarda mi hai fatto pure cadere È colpa di Stregatto Brian no Sì E siamo solo allo stage 42 Stregatto Perché non ti impegni Mi dispiace tanto Rotolerò verso la fine E ti porterò con me Va bene dai Ti posso dare fiducia Stregatto? Grazie a me con il figlio No 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 Switch di amico Adesso sono tuo amico Stregatto E non più di Alex Mamma che gioia Mi sto ricordando tutto No yeah No lo volevamo sapere Ragazzi forza però Rotolare veloce Bravi così No non siamo amici più Eh lo so ma adesso sono il tacerrimo nemico Ah e quindi? E c'è un bel pulsante Troll Ah E che cosa c'è dentro? Non userò su di te Ma sul tuo amichetto Stregatto Sì il mio amichetto Che fame Il mio amichetto Il tuo amichetto Sì esatto Sì esatto E verrà pure congelato No E fammelo vedere però Sì Congelalo adesso Pecca di questo Stregatto Non è congelato Si sta muovendo Ah che freddo che fa Però sto benissimo Anzi scivolo Andiamo Mi sto congelato da solo Ma sei un succhia Incredibile Mamma mia Alex E' una vergogna Vivere la tua vita Come arci nemico Sei veramente pessimo Adesso congelerò Stregatto Appena si avvicinerà a te E ti attaccherà al congelamento Cambio scia Metto questa qui Mi è congelato Guardami Ma sei bello Non sono come Alex No Oh mio dio Ma è durato pochissimo Quanto hai pagato 100 euro Due volte È durato tre secondi Che belli investimenti Ma lo sappiamo che Alex Fa degli acquisti pazzeschi Stregatto ascolta a me Premi tu il pulsante troll Vendichiamoci ok Faccio subito Allora Vieni qui Alex E anche Stregatto Eccomi qua Guarda salto Ok Ma Stregatto è caduto Aspetta un attimo Dammi qualche prova Ma il tuo amico Non è capace a far nulla Ma sei uno schifo Stregatto Me lo diventi Che ho triplo Va bene Allora Stregatto Ascoltami bene C'è un potenziamento Che si chiama rimpicciolimento Trasformiamo Alex In un micropalla Come è Dai Compraglielo tu Shrink Stringiti tutto Ah Ah Un piccolo palletto Eh vuoi fare palla a palla Non sono diventato Ne chi appende Ah La tua pallina microscopica Alex Eh Non ti vergogni Di andare in giro Con queste palle qua Mi vergogno Di brutto Guarda che vino Micropalla Eh Ma Stregatto Ma io vedo altri troll qua Stregatto Cosa c'è No cosa devo fare Non l'hai neanche preso in giro una volta Che stupido L'ho fatto una volta Ho detto che è un pallino Ma cosa Cosa hai detto Non l'ho detto Fallo buttare giù Fallo shoppare Fagli comprare le facce Ricaricati immediatamente i robux Faccio subito Io non ho parole Cioè tu hai ragione tu No Non l'ho mai ragione io Aveva ragione lui ragazzi Sono scemo io che gliel'ho detto Eh Te lo giuro Quindi sei stato bravo Tu hai detto Hai fatto il tuo E io ho sbagliato io a riprenderti Vero Ho solo un infame schifoso Ricarica Cosa devi fare Gli devi far comprare Tutte quelle facce Gli devi far mettere la più brutta Ma guarda È già brutto di così Eh Cioè io me lo immagino Con la faccia di c***o Che gli ha dato madre natura Che è Sto schifoso Ricarica T'ho facendo Ma dovevi far arrabbiarmi dovevi Ma se io t'ho ripreso Secondo te Avevi fatto il tuo E perché ho torto No no Adesso spendi tutto quello Che ti ha dato la tua madre Non è il momento di cambiare amicizia Adesso No non lo è Abbiamo ricaricato bene Credo proprio di sì Credo anch'io Allora Buzzante nuke Costo 400 robux Inizia Lo faccio Tanto noi abbiamo preso il checkpoint Non è detto Non è tornato mai all'inizio Oddio Ryan Eh lo so per fare Dimmelo Ryan Non pensaci bene Ti prego Vai 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 Sto attento Si è fatto tutto giallo Guarda il cielo Oddio che schifo Hai rovinato tutta la motore Mamma mia Vuoi acquistare grappa Anna questo è per te Non mi piace la grappa Grazie Preferivo qualcos'altro Eh perché non la vuoi acquistare A me piace la grappa Oh Cari Dai ho già piaciuto la mia bomba Stai zitto Stai zitto Stai zitto Pensi di aver finito No Continua a comprare Comprati anche la grappa Forza Ma non mi si va bene Veloce Veloce voglio vederla eh Se non me la fai vedere ti faccio comprare altro Sì bravo Ryan Ho preso Fammela vedere Aspetta io sono in lontano Allora è il momento di comprare Skip stage qualche volta Forza Forza L'ho fatto Non sei ancora qui Compralo ancora Ma qua Oh qua Noi siamo a 64 Eh fratello Eccomi qua Fammi vedere questa grappa Eh Guarda qui L'ho tirata fuori No la vediamo È dentro di me Usala Guarda Più Siamo sicuri che ce l'abbia Ma sei sicuri che ce l'hai Sicuramente è il tuo Non funziona Io ho dei miei dubbi Ma io sono stato truffato 8 volte oggi Ti prego Fai vedere che usi la grappa contro quel muro Se non funziona Non funziona Prova Usa la grappa Ma che sta saldando L'ho usata l'ho visto Siamo sicuri Anna Sì sì Non ti pidi di me No Non l'hai visto come risaliva e rotolava in su Ma quello lo possiamo fare tutti Anna Ma non è vero Contro il muro no Egli prende in giro No te lo giuro Io ce l'ho Non riesco a tirarla fuori Mi vergogno Mi vado di sotto Scioppa ancora No No ti spingolai Basta Basta Lo decido Allora no È cattivo È cattivo È cattivo D'accordo Allora Non scioperai altro per il momento Ma se sbagli un'altra cosa Non accadrà mai Non ti preoccupare Amico mio Torniamo Best friends Va bene Aspetta che sono caduto No Quindi è il momento per me di tornare A cerrimo nemico Ma tu Anna cosa sei in tutto questo Eeeh qua Sono spettatrice Sei un pet Anna tu Sono un pet Sì sono un pet Sei il mio pet Ok Ah bel pettone Eh cosa fai No Raccogli le monete Da terra Sì certo Se vuoi Ti busta un sacco Non hai idea Mamma mia Guarda il tuo amico stregatto Come torna indietro Di uno stage Come si Ma non era difficile Come va a farlo tornare indietro Sempre con il troll Oh mio dio Facciamolo tutti Beccati questo No E beccati anche questo No 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 Ma come è possibile Eeeh Selezionare il nome di stregatto sotto Ah Però adesso non lo vuoi fare Ora capisco perché anche a te è successo Alex Esatto ma io sono stupido Ma lo sai Alex che io ho un pulsante segreto Che posso far tornare indietro Lo stregatto di tipo Dieci stage Oh mio dio veramente No No ti prego Stregatto torna indietro i dieci stage E questo l'hai pagato Bravo inizia a andare eh Non ti fermare eh Cammina Più veloce Ma è difficile farlo al contrario Dieci ne devi contare eh Guardate bravo 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 Stai dimmi a quanto sono Non ho tenuto conto No no tu vai 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 Sei a uno Fermati a 64 No no non ti ferma Non ti fermare Tu vai vai avanti sempre Ma è difficile Non ti vedo più È normale così E questo è parte del piano Ok Tu continua ad andare Non ti fermare mai eh Ma non ti vedo più Eh ma io ci sono Sono sempre con te Lo sai no Ma bello Grazie Meno male eh Perché l'amicizia Che ci lega Siamo proprio migliori amici Sì sì Lion Iniziano ad essere difficili Sti cosi È vero Anna Raccogli le monete Monete Sì sei un pet Raccogli le monete no Dubito signor signore Ti do il Io ti do il moltiplicatore Per 170 mila Brava Sei proprio shoppata tu eh Sì 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 Costi un sacco di robux Lion posso tornare No 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 Ma Torni indietro qualche altro livello No Ma come Scusa Eh così non rischiamo Che magari hai sbagliato Hai contato male Eh Ma alcuni salti sono impossibili Ah no 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 Non c'è niente di impossibile Ma Lion Ma quando sei andato avanti da solo Sei un po' come un pro Hai visto Hai visto È incredibile Veramente Ma stai con l'asciugamano Ma Livello 85 Cosa Stoppetti sotto di te Opla Ma io non mi fermo più È diventata una gara ormai questa Vai 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 Non ti fermare Cioè ma Alex Ma tu non ti rendi conto Di quanto so bravo Questa è una busta da pettino Eh È la palla più brava di tutta la lobby È l'assoluto eh Sì Incredibile palla Eh stregatto non mi ha fatto neanche Ma io ho rotolato No Ma te l'ho detto Te lo giuro Vedenti di me Ah sa sa Ho di nuovo torto Ho di nuovo torto No 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 Ho di nuovo torto Ho di nuovo torto Ho di nuovo torto Avete capito Ho di nuovo torto io No non per favore Apri il negozio Te lo faccio passare io questo vizio Te lo faccio passare io Ah stregatto Allora apri il negozio Ti compri Vediamo eh Cosa c'è di bello Eh nulla Hai comprato tutto Le skin No le skin costano poco Anna Non va bene per lui Ma sono utili Eh allora comprati le skin Tutte Quanto costano Centovantanove Sbrigati Tutte Tutte Eh una alla volta devi pagare Non è che Ok Non è che mica le paghi una alla volta Ho capito Cosa pensi Che quello che ha creato la modalità È un truffatore No no assolutamente Infatti il tappeto Guarda cipolo sopra Non me lo ha pensato Oh ma prendi in giro quello che ha creato la modalità dal tuo basso Non lo farei mai Cioè ma ti sei visto non lo so Sono felice di donargli tutti i miei robux Eh bravo Meno male Hai comprato ste emoji Non mi vedo più la faccia Va bene Non è che ci hai perso molto eh No Con quella sembianza falliforme che hai davanti No Eh non si capisce Si può dire Si può dire Si può dire Madonna come sto andando bene io Alex un po' di tifo No ma c'avevi ragione però eh Guarda che noi ci arrampichiamo sulle pareti Eh lo so infatti l'infame L'aveva letto Voleva truffare Ma ce l'ho quello te lo prometto Come c'è il tappeto Oh ma io non vedo le sue emoji nella faccia stregatto eh Non mi vedi Eh non le vedo no Do stai No prova Fammi il troll Così mi vedi Cosa vuol dire fammi il troll Perché puoi spettarmi Ah Se ti vedo eh Beh questa sarebbe una faccia diversa È una faccia diversa Con gli occhi azurri Cambiare un'altra Eh devo morire per farlo Aspetta Eh magari No Oh sennò No aspetta è certo Oh che mi è successo Ma non hai una faccia diversa È sempre la stessa Ma laia io mi vedo tutto scuro E so cambiato Ah io non ti vedo scuro Ma non vedo facce diverse stregatto Ma come Non ci posso credere Ti sta truffando di nuovo Vedo una faccetta azzurra Che effettivamente No no È uguale alla mia stregatto No Aspetta guarda Lo rifaccio Adesso la vedi per bene Guardala No è sempre la stessa stregatto È sempre la stessa Ma com'è possibile Non lo so Allora se la vede solo lui Secondo me se la vede solo Non la vedo eh Quindi secondo me Sta truffando Allora stregatto Qua ci stiamo arrabbiando tutti quanti Anche nei commenti Tutti si sono girati di palla Adesso compri ancora Perché non è possibile Ma io lo capiate No non è vero Non lo vediamo noi Non lo vediamo Ti manderei una foto Te lo giuro Mandami una foto Va bene Lo faccio all'istante Su whatsapp Carca misera ho perso Questo è difficile Lion Non dobbiamo più pensare a lui Ci mancano ancora 46 stage Sì ma ho visto Che tu puoi shoppare Di essere avanzato Di un tot di stage Alla fin fine Quindi Lion siamo al 100 Ho preso la sciabbonanza La che? La sciabbonanza La sciabbonanza Guarda che bella E io ti ho mandato la fotina Vediamo Attenzione ragazzi Vediamo la foto Di stregatto nudo Allora ragazzi Guarda che stai attento Eh no è vero Ha ragione Ve la faccio vedere a tutti Vedete Questo è lui Madonna Si è visto il tuo numero Di telefono Adesso fate Questo è bellissimo La faccia di stregatto Effettivamente sembrerebbe Che egli ci abbia detto Il vero Però noi Che gli crediamo Ma ci piace anche Farlo shoppare No per favore Vabbè basta ragazzi Basta Ha shoppato tanto Per tutti lui Eh mi sembra Sono felice di Averti ingraziato Della mia presenza Ryan un sosteggio È impossibile È molto difficile È difficilissimo Allora se vedete di lato Ci avete sei free skip In caso Facciamolo Vai Via via Eh oramai inizia A essere veramente difficile Questo livello Eh no ma è veramente No è possibile Ryan aiuto Ryan aiuto Ryan aiuto Io sto Mi sto contenendo Ah Non mi sto contenendo più Ma io Io sto andando benissimo Io sto impazzendo Aiuta Mamma mia che bravo Strei un po' di tifo Ma guarda come salti Sulle cose sottili Sei fortissimo Questo quello difficile L'ho schifo Perché se no mi arrabbio E perdo confidenza In me stesso Non va bene Bravo È così che si fa Bisogna prendersi cura Di se stessi E questi sono appuntiti Pure come vai Ma guarda Ma la prima Alex fai schifo Ma come fai Ma come fai Hopla È ancora in gara lui È ancora la palla più top Io non riesco più Io non riesco più La palla super top La palla super top Però Palla super top Ma ricorda che le palle Tornano sempre indietro Le palle Lo fanno Le palle vanno dove gli pare Le palle Allora facciamo così È impossibile Skip una volta Sono al 110 Adesso Io avevo visto Che c'era una cosa Per andare direttamente Alla fine Mi ricordo Davvero? Me lo ricordo Me lo ricordo anch'io Su Robux Bravo Allora puoi andare Al prezzo Di Eh Allora 199 Robux Skip 20 stage Lo compro Una volta Ma sai Ah sai Ma anche tu lo compri Naturalmente Cosa fai? Mi ci fa andare da solo Non puoi rimanere da solo La Ionico E ora davvero serio Ti fai la fine Davvero Couturioso No 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 Ok puoi tornare anche indietro Ma io vado avanti 131 Eccomi qua 131esimo stage Ragazzi Anna dov'è la mia Pettina? Eh Al 108 Ciò No 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 Non c'è bisogno Per te Anna La tua presenza No C'è 150 Robux Buttati Lasciali buttare ad Alex Ma benissimo Dove sono? Che il bilancio Della famiglia di Alex Non ci riguarda Sì ormai Bravo Grazie Mi stai aspettando? Ma certo L'ho sempre fatto Ah Grazie Grazie Ma io non mi vieni Aspetta Mi ti prego Ma Lion Non è vero Che costa 150 Succa Mi costa 300 Eh Anna Allora lascia stai dove sei Che stai bene dove sei Le ho sciappati No Anna Ma sei una vagona Cosa fai? Non è una buona idea Ma non ha funzionato Ma Anna Devi muoverti con le freccette in alto Brutta vecchiotta Eh Ok ci sono Ragazzi 140 io sono Oh mio Lion Vedo la fine Vedo la fine E dov'è la fine zio? È laggiù Lo vedi? Schifo Ma scusa ma non erano 140 Erano 146 Ma mi hai buggerato Brutto fallimento Che non sia Eh ma ci siamo quasi Cosa ti cambia? Giusto giusto Un po' di tifo qua Ah Eccomi Alla 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 Pensa che alla fine c'è un premio Ah Non vedo l'ora di redimerlo Questo premio Eccomi Ma ma che skill Sei spiderman Sì Spiderballs Eccolo qua Ed eccolo qua Ma ci credo Ce l'ho stato facendo Oddio ci l'hai fatta Sono arrivato nel sacro campo Da basket Bellissimo Da calcio Questo è calcio Non è basket E faccio il leggendario Goal Bravo Vittoria Si può entrare qua dentro? Vuoi prestigiare? Non voglio prestigiare un bel paio di niente Prendi il cubo che è un regalo mi sa Un regalone? Non è vero Quello a sinistra Quello a sinistra? Questo qua? Prendi il tuo regalino meritato Eh ho vinto Una chiave inglese Che bello Vabbè Grazie di aver guardato questo video Stregatto ha shoppato Mille Robux Quest'oggi E noi siamo li Siamo molti di più Scriviamo il numero mille nei commenti Per augurare che Stregatto Shoppi altri mille Robux Nel prossimo video Oh Anna Che brava Sì Vai anche tu a fare il leggendario Goal Eh Vado a fare il leggendario Goal E Alex segnati un buono Non arriverò mai Mille Robux anche tu No Per non essere riuscito ad arrivare fino alla fine E oggi però ci salutiamo E Lion out Ciao No